E' stato eletto solo pochissimi giorni fa, ma è già stato sospeso il sindaco di Villa San Giovanni, Giovanni Siclari. Il provvedimento è stato emesso dal prefetto di Reggio Calabria, Michele Di Bari, in base alla legge Severino, e dopo una comunicazione giunta dall'autorità giudiziaria, Siclari, infatti, vice sindaco nella passata consigliatura, è stato condannato primo grado per abuso d'ufficio insieme all'ex sindaco Antonio Messina. Alla sospensione erano seguite le dimissioni dei 16 consiglieri che avevano portato allo scioglimento dell'ente e a nuove elezioni. In attesa del processo d'appello, Siclari non era comunque incandidabile, ma essendo stato eletto, è scattata per lui la sospensione per 18 mesi. Siclari, candidato di Alternativa Popolare, è stato eletto domenica scorsa alla guida della lista Leali per Villa, con 2470 voti, pari al 33,16%. Subito dopo la proclamazione, Siclari ha nominato con apposito decreto il proprio vice sindaco Maria Grazia Richichi, storica figura della politica villese, da sempre impegnata nella vita politica e sociale della città. Lo stesso, comunque, ha fatto ricorso in appello e procederà, ha fatto sapere, la propria battaglia legale, convinto di veder riconosciute le proprie ragioni.